Buongiorno, siamo oggi qua con un giovane cinofilo nonché allevatore che adesso ci dirà il suo nome, si presenterà e ci dirà le razze che alleva. Prego! Io mi chiamo Achille Leon Zamboni e preferisco venire chiamato semplicemente Leon. Va bene, allora ti chiamerò semplicemente Leon. Ci dici che razze allevi Leon? Allora, allevo gli skipper che sono tutti quelli di casa, sono tutti miei. Poi ho una piccola volpina di un colore sbagliato, ma vabbè, che dorme con me. Quindi in realtà allevo soprattutto gli skipper, però ho anche un volpino. Ah ok, e quindi invece i volpini dell'allevamento non sono i tuoi, è la tua mamma che alleva i volpini. Esatto. E tu invece sei l'allevatore di skipper, perché? Esatto. Ok. Ascolta, ma da grande vuoi fare l'allevatore? Allora, non lo so ancora, però ci sto pensando. L'allevatore però sarà la mia passione, perché la mamma mi ha detto che si guadagna troppo poco per mangiare. Ah ok. E quindi le altre cose a cui stai pensando quali sono? Allora, o paleontologo, o veterinario, o una cosa che ha detto papà che ho già dimenticato come si dice. Ah, lo xenobiologo? Esatto. E cosa fa lo xenobiologo? Ehm, studia tipo i batteri di Marte, studia gli alieni. Ah, va bene. Ma pensi che continuerai ad allevare skipperchi da grande o cambierai razza? Allora, da grande pensavo di allevare skipperchi sia i volpini. Ah, ok. Quindi di aggiungere anche i volpini. Ma senti, ma i volpini ti piacciono più? Rossi o bianchi? Allora, se devo dire la verità, solo il fatto di colore a me non mi cambia molto. Quindi, se devo dire la verità, non mi fa molta differenza. Allora, cosa mi racconti della tua volpina tigrata, la feralia? Ma posso dire della sassi, vero? Sì, sì, puoi dirlo, puoi dirlo. Allora, visto che la sassi non riusciva a rimanere incinta, quando è riuscita ad avere i cuccioli, visto che la sassi è la preferita della mamma, abbiamo tenuto da una volpina per mantenere la linea di sangue. Ah, ok. Anche se non era del colore giusto? Esatto. Perché tanto, anche la sua sorella era dello stesso colore. Ok. Ma la feralia può fare cuccioli? Allora, non lo sappiamo ancora perché è ancora troppo piccola, però abbiamo fatto i test genetici e metà nascono come lei e metà rossi. Ah, ok. Quindi sei proprio un allevatore esperto anche di test genetici? Sì. Ah, ottimo. Leon, ma ti intendi anche di standard delle razze che allevi? Allora, mi intendo leggermente di più di volpini e un pochino di meno di skipperki, però sì. Allora, ci dici quali sono secondo te le cose più importanti dello standard del volpino e dello skipperki? Allora, il volpino, i due colori principali sono bianco e rosso, però è accettato anche il color champagne, però piace poco. E devono essere tutte e due di corpo tipo cubetto. Ah, ok. La coda del volpino italiano è lunga e sul dorso. Bravo! E lo skipperki invece ha le orecchie piccole, invece il volpino italiano ha di solito le orecchie di standard più grandi e lunghe. Ah, ma sei proprio bravo allora, però ti vedo già in crisi sullo standard, passiamo oltre? Sì. Qual è la cosa più bella di allevare? Che, visto che io sono figlio unico, per me allevare è come avere per ogni cucciolata dei fratelli o sorelle. Ah, che bello! E so che c'è un periodo della vita dei cuccioli che ti piace particolarmente. Sì, quando hanno praticamente aperto gli occhi da poco e iniziano a mordicchiare anche se non hanno praticamente denti. Ah, ok. Allora ti piacciono proprio piccolissimi. Esatto. Ma ti fanno scegliere un cucciolo da tenere o di solito sceglie la mamma e papà? Ah, di solito sceglie la mamma o papà, di solito la mamma, però questa volta ho potuto scegliere io. Ed è la Feralia? Esatto. Poi la mamma sceglie sempre solo lei i nomi, anche se quando tipo le propongo io e papà dicono sono molto belli, però non li dà mai. Ah, ok. Quindi sceglie sempre la mamma i nomi. Esatto. Teranno una volta. Ah, ma io so appunto che tu hai scelto un nome. Eh, sì. Che nome hai scelto? Non mi ricordo bene di chi, perché oramai se avremo, non tutti i canini avremo già più di 30. Ma non è vero, non abbiamo 30 canini. Lo so, intendevo che se avessimo tenuto tutti quelli che abbiamo delle cucciolate, oramai ne avremmo te 30. Un paio di più, quindi i nomi a memoria non me li ricordo. Ah, ok. Ah, te lo dico io, hai scelto cowboy. Eh, è cowboy. Era il mio preferito di un'altra cucciolata. Volpini italiani bianchi. Era un pochino cicciottello. Ogni volta che lo prendevo, voci si faceva sotto dalla felicità. So che sei anche un bravo handler. Sì, faccio gare anche di adulti, però preferisco quelle dei bambini. Ok. Come mai preferisci le gare dei bambini? In due posti, anche se non arrivavi in podio, tipo a Buda, presto ti davano un giochino. Una volta che sono arrivato quarto, mi hanno dato un peluscio di un cane così. Ah, quindi non ti interessa molto il posto in cui arrivi. Esatto. Ti interessa più il gioco che ti regalano. Esatto. Più o meno questo. Ok. E poi è importante divertirci, quindi. Ecco, adesso abbaiano tutti. Sì. Ma, ascolta, scusate l'interruzione, ma è arrivato il corriere di Amazon e si è scatenato... L'Ira di Dio. Esatto. Ascolta, ma allora fai anche le gare con i grandi, non solo quelle con i bambini. Sì, una volta sono arrivato, mi sembra, terzo in una gara degli adulti. Ah, ma... E so, invece che contro la mamma hai sempre vinto tu? Sì. Ma chi è il tuo cane preferito per fare le gare dei bimbi? È da molto che non le faccio, quindi non mi ricordo bene con chi vado meglio. Ah, perché c'è stato il covid e non hai fatto le gare. Esatto. Ah, ok. Quindi non mi ricordo bene... Si moccano... Quali vado meglio, con chi vado peggio. Però so che c'è un cane che avete da tanto con cui hai sempre fatto le gare. Sì. E chi è? Vabbè. Esatto. Anche Artù. Anche Artù. Artù e Bebè li faccio spesso. Bravo. Ascolta, ma da allevatore hai un sogno di una cosa che ti piacerebbe vincere? I mondiali. Ah, vorresti vincere i mondiali? È. E con chi li vorresti vincere i mondiali? Con Artù. Se intendetti con quale cane. Sì, intendevo con quale cane. Allora, ma hai mai partecipato a un mondiale? No. Come mai? Perché sono ancora troppo piccolo. Ah, ok. Ma ce l'hai l'affisso? No. Come mai? Eh, perché sono ancora troppo piccolo anche per l'affisso. Ma ce l'hai già il nome dell'affisso? Allora, l'avevo già deciso, però ci sto ancora pensando. Ah, va bene. Hai già qualche idea? Ce la vuoi dire? Allora, l'unico che ho pensato è quello che ho sempre tenuto in mente, che è il primo a cui ho pensato, ovvero i buboli di Leon. Perché io i cuccioli, quando sono piccoli, chiamo buboli. Ah, va bene. Quindi un giorno sentiremo parlare dei buboli di Leon. Forse. Ok. Allora, la nostra intervista è giunta al termine. E l'ultima domanda che ti facciamo, Leon, è se vuoi raccontare un episodio speciale della tua vita da allevatore. Voglio raccontare di quando e come è nata la ferry, ovvero quella che viene detto con me. Ok. Allora, la cosa buffa è che è nata nel mio stesso giorno del compleanno. Ero lì che mangiavo la torta e la mamma arriva e dice, sta nascendo. E adesso tutto lì, vado in bagno. Ma cosa hai urlato quel momento lì? Te lo ricordi? Siamo in travaglio! Ho urlato. La nonna ha detto, va bene, vai. Perché la nonna di queste cose non si intende. Ok. Quindi quando sente queste parole dice, va bene, vai. Ok. Allora, ci racconti di com'è nata la ferry? E in pratica è nata senza sacchetto. E non mi ricordo, benessera lei, se è nata senza il cordone umbilicale o non... Ecco, lei è anche nata senza il cordone umbilicale. Niente sacchetto e niente cordone umbilicale. È letteralmente caduta fuori. Ah, ok. E quindi è stata da subito la tua preferita per quello? Esatto. E poi abbiamo un cane che, appena nato, l'abbiamo perso sotto un mobile. E chi è? Si chiama Gigi. Non sta mai fermo. Infatti si è fatto male, è una zampa. E quando è nato, mentre stavano nascendo gli altri, era già lì che strisciava sotto un mobile. Ah, ok. Allora hai vissuto tante emozioni da allevatore. E una cosa bellissima è che, a volte, visto che non ci sono... I cani, in qualche modo, iniziano a partorire soltanto quando ci sono io. Non c'è mai stata una volta che non hanno fatto il corso mentre io non c'ero. Ah, ti aspettano che torni da scuola? Più o meno sì. Ah, ok. Allora, vuoi salutare tutti quanti quelli che hanno visto la tua intervista? Sì. Ok, salutiamo tutti. Sì, ciao. Ciao. Ciao.